Dopo la discussione alla Camera della mozione del momento 5 stelle concernente iniziative volte a garantire il funzionamento delle province, la deputata Maria Lucia Lorefice si mostra quanto perplessa, rimarcando la poca attenzione del governo all'argomento. Le province, afferma la Lorefice, dovevano essere soppresse con una legge costituzionale ma, come è noto, sono state mantenute private di risorse adeguate alle funzioni previste dalla riforma del Rio. Nei fatti sono state soppresse solo le modalità di elezione degli amministratori. Per il resto, molti enti provinciali hanno mantenuto le funzioni originarie in attesa di un successivo trasferimento di funzioni personali presso le regioni. Ma oggi si trovano a dover fare i conti con finanze insufficienti, bilancio al collasso e impossibilità di riuscire a pagare dipendenti e fornitori. Il caso Sicile è poi emblematico, rileva la parlamentare Grillina, cui la riforma Crocetta si è rivelata un fallimento con le province trasformate in consorsi tra comuni. Un risultato sconfortante, con enti ibridi che svolgono le funzioni della provincia, ma se ha soldi in cassa e le conseguenze sono visibili. Niente stipendi, niente servizi. Basta pensare al servizio per gli studenti disabili e alle ripetute manifestazioni di protesta delle famiglie. L'assurdo quindi conclude la lorefice che di fronte a questi problemi, governo e maggioranza si girano dall'altra parte.